Stiamo imbottigliando il Mungibel Classico 2019 e prepariamo immediatamente gli ordini per spedizione prima di Natale. Il Susuccaro Rosso 2019 abbiamo imbottigliato ad agosto prima della vendegna. 2019 è stata una buona nata di media struttura, diversa dal 2018 che è stata una nata molto leggera, molto difficile. Abbiamo avuto anche abbastanza pioggia in 2019, qualche difficoltà di maturazione in certe posizioni, certe vigne, molta selezione, però abbiamo dei vini con una buona struttura tannica, una fragranza e eleganza con più maturazione fenolica rispetto a 2018.